Mauro Corona colpisce ancora, lo scrittore a carta bianca diciamo che non ci è andato leggero ha commentato infatti quello che è stato il party organizzato da Chiara Nasti e il compagno Zaccagni per rivelare il genere del loro figlio bene, l'ha commentato con una frasetta leggera leggera diciamo dicendo il party all'olimpico? Una caffonata ottimo voi cosa ne pensate? Hai un po' esagerato lo scrittore oppure ha ragione? fateci sapere la vostra